Primo cappuccino nel bar, 1,40 euro, bella schiuma, sotto, sopra, non posso dare grande giudizio perché devo ancora vedere altri bar come fanno, tutti i bar fanno diverso, il caffè mi piace tanto ma vediamo come cappuccino, voglio scoprire il mio bar preferito, devo fare un cappuccino più buono, buono abbastanza. Amici ho trovato telefono, diretta, telefono, non c'è anima mia, è viva intorno, mamma mia Giada, guarda che abbiamo trovato, che telefono è, chissà che telefono è, bisogna restituire questo telefono, ma come trovo io, mamma mia, uno si mette qui, si mette qui leggere, riposare e poi mette telefono a fianco, mamma mia, che emozione, che emozione, andiamo dai, dobbiamo, aspetta Giada, dobbiamo trovare padrone, dai, importante, dentro ci sono numeri, voglio chiamare e c'è qualche rubrica, 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 ecco amici portato a casa questo telefono, ci sono pin, ci sono codice di, di tutto c'è dentro, di codice di benefico, bonifico da banca, altri numeri di telefono, comunque tutto a posto, io già cercavo numero per chiamare, perché voglio assolutamente restituire, il suo amico mi ha chiamato, il telefono è questo qua, non so che valore è, ce ne ha quattro videocamere, e si chiama mi, mi, dove c'è questo mi, si vede o non si vede, si chiama mi, hai visto, ecco qua, ecco qua, questo, marca è questa qua, allora ora vengono a prendere, perché mi ha già chiamato amica, io ho risposto subito, io ho detto io, guardate, io ho ripresa questo telefono, assolutamente ripresa, perché se lasciavo questo telefono qualcuno prendeva, qualche ragazzo non restituisce, io proprio voglio restituire, perché mamma mia, se io perdo telefono sarebbe disastro proprio, sarebbe tragedia grossa grossa, infatti lei ha detto ci vediamo ora, io pensavo domani ci incontriamo, lei dice ora vengo a prendere, perché mia amica è proprio disperata tanto tanto, allora fra cinque minuti arriva sotto casa mia e io voglio restituire, sì. Ci sto portando il telefono assolutamente, perché guardate, si deve restituire, assolutamente, non sarò più ricca se avrò uno telefono di più. Ora lei mi chiama su questo numero, buonasera. Sto aspettando, non lo so da quale zona viene, ma penso di da questa zona qua. sto aspettando signora e non lo so da quale parte viene, comunque sono molto contenta che sarà lei contenta, perché è così, che felicità per questa donna, è sua amica mi ha chiamato, mi ha chiamato sua amica che è disperata. Amici, questa è mia bella zona. io già così, volevo portare io a quella panchina dove ho trovato, volevo portare domani o forse stasera, dico ti domani porto. Lei ha detto no, no, stasera meglio. Amici sono qua, ecco telefono, devo restituire il telefono. Mi ha chiamato sua, diciamo sua amica di questa signora, ma non è tanto anziana, avrà 70 anni, ho visto foto, ho visto, ho lasciato tutto, un codice, oi, arrivi, ecco, ecco qua, ecco lei. Amici, chiama, mi chiama, devo spegnere. Mi si è spento il telefono, come faccio ora? Mi chiama altra volta? Come devo fare ora? Mamma mia, non lo so come devo fare. Ah, è lei? Ciao. Prego. Ciao, grazie. Senti, mi dai il tuo numero? Perché la signora ti voleva ringraziare. No, va bene così. No, 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 ti vuole ringraziare. No, guarda. Basta così. No, ma ti vuole ringraziare, dai, ti prego. No, no, io sono cittadina italiana, sono ucraina. Sì, lei è rumena e assiste alla mia mamma, dai, ti vuole telefonare e ringraziare, dammi il tuo numero per cortesia. Ma non serve. Ma gli fa piacere. Guarda, io telefono questo, ho preso apposta, perché sapevo che restituisco 100%. Brava, brava. Se non lascio, qualche giovane si, ascolta, io ne ho trovato uno andando in bicicletta, ne ho trovato uno in terra in bicicletta, ci ho pensato, ho detto, ma forse chi l'ha perso viene a riprendere, perché sicuramente è accascata dalla bicicletta. Poi ho detto, ma non sa dove. No, no, no. E l'ho preso e l'ho portata al bar vicino dicendo, se rispondono dite in questo bar perché. Sì, sì, è vero. Dai, però dammi il tuo. Aspetta, eh. Dimmelo un po'. Sì, 338. Sì. 865. Amici, hai restituito il telefono. Mamma mia. Sono contenta io, sono molto contenta perché è meglio così. Lei è felice, contenta, voleva anche il mio numero di telefono. Io ho dato, però va bene così, non volevo, davvero, non volevo. Gente povera, deve ora spendere 200-300 euro, perché credo, non so nemmeno che valore ce l'ha questo telefono. Comunque, vi saluto. Amici, sono arrivata a casa. Mia pianta, vedete? Sempre bellissima. Mamma mia, come bella questa mia regina. Faccio vedere meglio questa mia regina, che mi sta bene. Mi dà, mi dà gioia tutti i giorni.